Nella notte tra venerdì e sabato passerà un fronte con residui e precipitazioni sulla regione. In giornata sabato ci aspettiamo ceno in prevalenza poco nuvoloso. Saranno possibili delle velature, forse anche consistenti, ma non sono previste precipitazioni in giornata. Le temperature rimarranno tutto sommato abbastanza stabili, con zero termico intorno ai 1300 metri in montagna. Per quanto riguarda invece la giornata di domenica, sono in arrivo in quota correnti molto miti. Potrebbero esserci delle raffiche di vento abbastanza sostenute, ma solo sulle creste e le quote più elevate, mentre nei bassi strati rimarranno un'atmosfera abbastanza stabile. Per quanto riguarda le condizioni del tempo, avremo ancora ceno in prevalenza poco nuvoloso, con possibili foschie o locali banchi di nebbia in pianura nella serata. L'inizio della prossima settimana ha un nuovo cambiamento. Per lunedì ci aspettiamo cielo da nuvoloso accoperto su pianura e costa, con possibili foschie, pioviggini e verso sera anche delle piogge sulle zone orientali, qualche nevicata sulle prealpi giuglie, intorno ai 1200 metri. Però sulle zone più interne della montagna ha ancora variabilità e assenza di precipitazioni. Martedì passerà un veloce fronte freddo, avremo un peggioramento, cielo coperto, soprattutto al mattino con piogge da moderata ed abbondanti, nevicate tra i 500 e gli 800 metri di quota circa. Questo fronte passerà velocemente e arriverà nuovamente la bora sulla costa.